Bene, salve a tutti ragazzi, Marco Casario qui ed è arrivato il momento di annunciare il secondo vincitore per partecipare al... per il biglietto che ho messo a disposizione, il secondo biglietto che ho messo a disposizione per la Blockchain Conference che si terrà a Milano il 14 giugno. Ragazzi, l'agenda è praticamente pronta, anzi vi dico, credo che sia confermata al 100%, stiamo solo aspettando una conferma per uno spostamento di orario, ma abbiamo creato veramente un evento unico, se guardate ai nomi ve ne accorgerete, c'è Mugaier, c'è Peter Todd, c'è Raffaele Mauro, c'è Giacomo Zucco e poi ancora c'è Simona Macellari, c'è Snyder, c'è Audrey Chang, c'è Medri, Andrea Medri, insomma ragazzi, è un'agenda spettacolare. La commentiamo adesso velocemente, ve la faccio vedere, all'apertura ci sarà Chiara Russo che parlerò, poi farò io l'apertura della conferenza, verrà intorno alle 9 e un quarto, quindi il keynote di opening che lascerò la parola poi a Mugaier che andrà avanti tra le 9 e 10 e le 9 e 50, poi ci sarà Raffaele Mauro che parlerà di venture capital e cripto, Mugaier parlerà la sua materia, il suo libro si chiama The Blockchain Economy e di quello proprio andrà a parlare, poi appunto Raffaele Mauro che è l'autore di Hacking Finance, parlerà di venture capital e cripto, l'equity side, poi ci sarà Audrey Chang alle 11, ci sarà un break tra le 10 e 30 alle 11 in cui vi verrà offerto un coffee break, poi c'è Audrey Chang appunto che parlerà di cryptocurrency trading e blockchain analyst e blockchaining, ci sarà Andrea Medri il CFO di The Rock Trading, quindi molto interessante, dobbiamo ancora mettere il titolo, io in realtà già ho avuto da parte sua, già abbiamo avuto l'argomento quindi sarà molto molto interessante e poi 12.30.13 Giacomo Zucco parlerà dell'ICO triangle, quindi Giacomo che è un bitcoin evangelist parlerà di informazioni, di tematiche che riguardano il mondo delle ICO e dopo ragazzi ci sarà il lunch break, quindi ci fermeremo per il pranzo e la conferenza si splitterà in due, che cosa vuol dire si splitterà in due? Vuol dire che ci saranno due tracce parallele, voi potrete decidere a quali delle due andare, quella del pomeriggio nella prima stanza partirà con Alessandro Cadoni alle 14.30 e poi Simona Macellari, quindi ci saranno entrambi sullo stage entrambi gli speaker, poi alle 15.30 Stefano Gatti e Stefano Capaccioli ancora insieme e parleranno di come, how companies work effectively with blockchain e poi nell'altra stanza 14.30, 15.20 Luca Nizzardo e Riccardo Casatta e poi 15.30, 16.20 Adam Schneider e Giorgio Mazzoli che parleranno insieme chiuderanno l'evento Peter Todd, insomma tutti penso che in questo settore conoscano Peter Todd, uno dei Bitcoin core developer e infine Marta Ghiglioni. Ragazzi quindi che altro dire se non è arrivato il momento, o meglio prima di estrarre una cosa la voglio dire per tutti quanti, per tutta la community del mio canale dedicato a blockchain, alle criptovalute e al trading ho la possibilità di fornire un codice sconto che potete usare per iscrivervi in qualsiasi momento però badate bene ragazzi, prima lo fate meglio è perché il prezzo del ticket più ci avviciniamo all'evento e più si alza quindi lo sconto che ottenete oggi usando il mio codice sconto vi permette di accedere ad un prezzo inferiore rispetto a se lo facciate tra una settimana o tra 20 giorni, perché ripeto ci sono diversi livelli di prezzo che mano a mano che ci si avvicina alla conferenza salgono di prezzo, quindi chi prima si iscrive meno paga e voi pagherete ancora meno se userete il mio codice sconto che trovate qui sotto nella descrizione del video ma rulli di tamburo di nuovo perché è arrivato il momento di estrarre il vincitore, il secondo vincitore il primo vincitore c'è stato la settimana scorsa, adesso abbiamo il secondo e ce ne saranno altri quindi vi faccio uno spoiler e vi dico che ce ne saranno altri, non saranno gli ultimi ho la possibilità di invitare ancora qualche persona all'evento, ma poi non troppe perché l'evento sarà comunque un evento chiuso ragazzi a numero limitato e molto probabilmente raggiungeremo il sold out prima di arrivare alla fine un motivo per il quale se volete iscrivervi fatelo il prima possibile prima di arrivare al sold out perché dopodiché proprio per ragioni legali non potremo più accettare nessuno e come lo andrò a prendere il vincitore come ho fatto l'altra volta? andrò a prendere il video dell'altra volta, prenderò un comment picker online una delle tante applicazioni che c'è online che prendono automaticamente uno delle persone uno degli utenti che ha commentato sotto al video che l'altra volta vi ho detto di commentare per se volete essere estratti, quindi lo andrò a mettere dentro questa applicazione farà tutto lui, non devo fare niente, non c'è possibilità di barare vi assicuro che quello che uscirà sarà pescato randomicamente ragazzi, visto che ho altri biglietti gratuiti, questo video qua che sto facendo in questo momento sarà il prossimo video che userò tra qualche giorno per estrarre il nuovo vincitore quindi se volete essere estratti, due cose, fate clic su iscriviti per essere iscritti a questo canale in modo tale da essere pescati tra gli iscritti numero due, lasciate un commento perché l'unico modo che questo software ha per pescare a caso una persona è di andarla a pescare tra i commenti, quindi lasciate un commento sotto a questo video fatelo adesso in modo tale la prossima volta di rientrare nel sorteggio basta parlare e andiamo a il video in questione era questo eccolo qui, questo era il video da cui andremo a prendere il vincitore quindi devo solo copiare e incollare l'url e la devo andare a mettere qui dentro, fare clic su questo tasto adesso il software caricherà tutti quanti i commenti eccoli qui, sono praticamente 511 commenti devo cliccare su pick a winner, siete pronti? scopriamo chi è il vincitore ed eccolo qua, il vincitore si chiama iCloud underscore Atlas il suo commento era speriamo nel prossimo biglietto free e le tue speranze sono state esaudite a discapito purtroppo di altre speranze ma come ho detto prima ci sono ancora altri biglietti che posso regalare perciò lasciate commenti qui sotto a questo video ci vediamo alla prossima estrazione e per l'utente iCloud Atlas mi contatti pure, contattami pure privatamente su Facebook su LinkedIn, in email, qui su YouTube dove vuoi te in modo tale da poterti inviare il biglietto gratuito ragazzi grazie mille per l'attenzione ci vediamo prestissimo e spero di incontrarvi tutti quanti all'evento del 14 giugno alla Blockchain Conference del 14 giugno a Milano sarà un'occasione incredibile per conoscere io per conoscere voi voi per conoscere me noi tutti per conoscere altre persone interagire con entusiasti della tecnologia persone entusiaste della tecnologia per interfacciarsi e esprimere le proprie domande i dubbi tecnici a esperti mondiali del settore insomma ragazzi tutto questo ce l'abbiamo in casa in Italia è un'occasione unica non ce la facciamo scappare io almeno ci sarò sicuramente ci vediamo prestissimo grazie mille per l'attenzione buon trading a tutti ciao